Io resto a casa. Regole di comportamento valide in tutta Italia per contenere l'epidemia di Covid-19. Evita di uscire di casa, è la cosa più importante. Mantieni sempre la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone. Evita i contatti anche in casa. Se hai infezioni respiratorie con febbre sopra i 37 e mezzo, chiama il medico. Esci solo se veramente necessario, solo per acquisto di alimentari, comprovate esigenze lavorative e condizioni di necessità. Ricorda che puoi fare la spesa o recarti in farmacia, ma solo vicino a casa e comunque all'interno del tuo comune. Puoi andare a trovare genitori anziani e parenti da acudire, ma usando tutte le precauzioni. Puoi andare a lavorare se non puoi farlo da casa, ma devi avere con te un'auto certificazione che comprovi la necessità dello spostamento. Puoi andare a fare una passeggiata o uscire con il cane, ma nei pressi della tua abitazione, scegliendo spazi che consentano di evitare contatti e mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro con altre persone. Non puoi andare a cena da amici o andarli a trovare. Per ogni approfondimento consulta le FAQ predisposte sul sito governo.it. Informazioni a cura di Anci Marche e Regione Marche. Numero verde coronavirus attivo dalle 8 alle 20. 800-9366-77. 7-8양-8666-77. 7-8-2-7-7-8-7-8-9-7-0-2-7.